È un muro che è stato voluto fortemente da Erdogan e poi anche sostenuto dalle potenze europee, iniziato con la sua costruzione nel 2014 e poi intensificato a partire dal 2015 dopo l'attentato di Suruc e che ormai ha raggiunto circa i 650 chilometri rispetto ai 911 di confine tra Siria e Turchia. Anche questo è un muro che secondo le dichiarazioni ufficiali di Erdogan è costruito per evitare l'ingresso dei terroristi proprio al confine tra Siria e Turchia. In realtà le motivazioni di costruzione di questo muro sono politiche, non si vuole far arrivare quella che è stata l'esperienza rivoluzionaria di Kobane del Rojava nel resto del Kurdistan, quindi si vuole bloccare quelle che sono le esperienze rivoluzionari in tutto quel territorio e tanto che si vede come infatti chiaramente le armi ad esempio per sostenere Daesh passino indisturbate, invece ad esempio chi scappa dalla guerra si trova in realtà la strada bloccata. Quindi questo è quello che succede al confine tra Turchia e Siria. Che cosa comporta la costruzione di questo muro proprio in quelle zone che tu hai visto così da vicino? Sì, intanto appunto questo muro è costruito comunque leggermente all'interno del confine siriano di alcune decine di metri, quindi su una lunghezza così rilevante chiaramente è spropria anche di terreno tutta una serie di persone che abitano lungo il confine, essendo che il confine taglia proprio il Kurdistan, cioè il Bakuri, il Kurdistan cententrionale e il Rojava, il Kurdistan occidentale, è una zona quella di confine densamente popolata. Io stesso quando sono stato nei primi due mesi in Rojava nella società civile, stando in città come Amud e come Kamishlo, ma anche quando uno sta a Kobane si trova immediatamente a ridosso del confine turco, anzi la città di Kamishlo originariamente era un'unica città con Nusaibin che oggi si trova dall'altro lato, così come la città di Grespit e Labiad era durante l'impero ottomano un'unica città con quella che oggi è Akçalé in Turchia, quindi il confine che è stato tracciato su quella che è fondamentalmente seguendo la ferrovia che era stata costruita dai tedeschi nell'impero ottomano anticamente ha tagliato in due anche delle città, quindi costruire un muro all'interno del versante siriano significa per esempio per molti contadini che abitano sul confine di nuovo avere problemi per quanto riguarda le proprie terre, non averle più senza contare che la guardia di frontiera del confine turco da anni ha di fatto l'ordine di sparare a vista su qualsiasi cosa si muova all'interno di svariate decine di metri all'interno del Rojava, cosa che produce morti quotidianamente, morti di cui ho appreso soltanto quando ero lì perché morivano proprio nei luoghi dove io stavo, dove io abitavo, ma di cui qua non c'è nessuna notizia, sono morti che non contano nulla nell'economia di quello che sta accadendo tra Turchia e Siria, ma sono morti reali non meno di tutti gli altri. Ora per quanto riguarda la giustificazione del muro penso che ci introduca al cuore della questione proprio politica perché quando si giustifica qualcosa per combattere il terrorismo è semplicemente se vogliamo un livello di concentrazione ancora maggiore del discorso politico, di intensificazione ancora maggiore del discorso politico rispetto alla giustificazione a cui alludeva Michele rispetto alla sicurezza. Il terrorismo è sempre stato l'etichetta che ciascuno è stato messo sopra il proprio nemico laddove si è ritenuto che fosse necessario sospendere il diritto a iniziare un rapporto di guerra con qualche attore esterno interno ai propri confini è stato sempre utilizzato a partire dal novecento questo termine che non a caso è sempre stato criticato nella giurisprudenza, nella scienza politica proprio per questo motivo ma che ha raggiunto io credo sicuramente con l'inizio di questo secolo un picco diciamo di politicizzazione quindi anche come dire di esibizione della propria nudità teorica nel senso che soltanto li volucro appunto per poter combattere qualcuno ma ha definitivamente sorpassato ogni confine capovolgendosi sostanzialmente nel suo stesso come dire in una stessa dimensione quasi ridicola del suo uso proprio con la guerra civile siriana in cui sono andate talmente in contraddizione tutta una serie di linee di politica estera, di vari governi e anche fatte per interposta persona tutto l'utilizzo di milizie, movimenti, partiti all'interno di quel paese che sostanzialmente ci sono tantissime realtà che sono considerate terroristiche da alcuni stati in Siria che da altri sono considerate forze di liberazione e così via cioè per esempio le IEPG che sono un'organizzazione terroristica secondo la Turchia hanno le proprie forze antiterrorismo così come ci sono anche altre realtà che dicono di combattere il terrorismo ma che hanno dei comportamenti del tutto analoghi a gruppi che sono appunto definiti da essi terroristi quindi il punto è questo muro quale tipo di terrorismo vuole in qualche modo impedire o arginare? io per esempio sono stato definito come anche gli altri italiani che sono andati a combattere negli IEPG un foreign fighter, in effetti questo muro servirebbe secondo Erdogan a impedire un passaggio di foreign fighter però per esempio l'offensiva, l'operazione a cui ho partecipato esattamente un anno fa che era quella per la liberazione della città di Manbij nei pressi di Aleppo è servita a chiudere quella che era l'ultima autostrada del Jihad che passava proprio dalla Turchia ai territori controllati dello Stato Islamico attraverso il quale appunto l'embo di territorio l'ISIS si continuava a rifornire di logistica, di soldi, di armi ma soprattutto per i combattenti stranieri non a caso dopo che la nostra offensiva un anno fa ha avuto successo da diverse migliaia ogni anno l'afflusso di combattenti stranieri, milizioni stranieri per l'ISIS si è completamente azzerato perché non c'è più la possibilità di passare questo per dire che quindi come c'è terrorista e terrorista così c'è anche foreign fighter e foreign fighter cioè i combattenti internazionali che hanno contribuito alla liberazione di Manbij ci hanno di fatto impedito storicamente la continuazione di questo fenomeno assolutamente nocivo per la Siria ma per il mondo intero che era questo interscambio di persone dentro e fuori territori dell'ISIS proprio con la complicità del governo turco e non è un caso che proprio dopo il successo di questa offensiva la Turchia ha deciso di invadere la Siria di invadere, quel lembo di terra comunque significativo che continua a occupare tra il cantone di Koban e quello di Afrin per tutelare la possibilità ai foreign fighter o ai miliziani di altri gruppi islamisti siriani di continuare a utilizzare il suo confine come luogo per andare a rifornirsi ed anche ad addestrarsi perché poi io quando ero in Rojava guardavo con i miei compagni kurdi la televisione kurda per esempio c'era stata una grossa esplosione in Turchia dove alcuni agenti segreti turchi stavano addestrando all'uso dell'esplosivo dei miliziani di Arar al-Sham che è uno dei gruppi salafitti peggiori che agiscono in Siria e in cui erano morti tra l'altro diversi turchi e diversi di questi miliziani queste sono cose che in realtà sono rivendicate, sono luce del sole in Turchia perché fanno parte comunque della legittimazione di quelli che appunto per noi potrebbero sembrare terroristi ma per il governo turco sono semplicemente dei combattenti per la libertà e per una giusta imposizione comunque di criteri più rigidi di vita e improntati un rispetto più rigido della legge coranica all'interno della Turchia se come dire il muro fosse stato costruito, venisse costruito per impedire l'afflusso di terroristi tutto questo non si spiegherebbe così come non si spiegherebbe il fatto che viene costruito appunto a ridosso di città come Kobane, come Kamishlo, come Derik ma non viene costruito lungo la provincia di Idlib che a sua volta confina con la Turchia e che è ormai l'ultima provincia in cui tutte queste milizie islamiste sostenute da Erdogan si sono asserragliate dopo l'offensiva di Aleppo del regime e anche delle forze siriane democratiche di quest'autunno quindi è chiaro che si tratta di distinguere tra diversi tipi di fenomeni sulla base di un criterio naturalmente politico da parte del governo turco e quello che in realtà è il fenomeno terroristico tra virgolette o di foreign fighter che il governo turco vuole impedire con questo muro e è quello che posso brevemente descrivervi io quando sono stato nel cur di San Turco nell'autunno del 2015 ho parlato con quelli che erano alcuni combattenti delle IEPSE cioè l'unità di protezione dei civili che all'interno di alcune città del sud-est turco, città kurde si preparavano all'offensiva che il governo e l'esercito avrebbero portato in quelle città a seguito della vittoria delle elezioni di Erdogan e contro la proclamazione di autogoverno di certi quartieri di quelle città proprio nell'ottica confederale che voleva, e vuolo tuttora estendere l'esperimento del Rojava anche ad altre aree, ad altri paesi del Medio Oriente ebbene io mi ricordo che questi ragazzi che si apprestavano appunto a sostenere questi combattimenti durissimi e uno di loro con cui avevo parlato nella città di Farkin che si chiamava Maslum e diventato poi il primo martire di tutta la guerra terribile che sta insanguinando la Turchia sud-orientale ancora oggi ebbene questi ragazzi dicevano che per loro, come dire, l'avanguardia del loro movimento la vedevano proprio nelle IEPG in Siria le IEPG per loro erano coloro che lottavano per il confederalismo e per il Kurdistan sul fronte più avanzato e c'era proprio questo mito delle IEPG poi quando invece ero entrato nelle IEPG ed ero con la mia unità nella città di Ainissa sul fronte a nord di Racca tutti i ragazzi kurdi che erano nella mia unità continuavano a dire certo noi siamo qua a combattere questi scappati di casa, questi banditi di Daesh e invece quando dovremmo essere in Bakura a combattere con le IEPSE contro il vero grande nemico che è il governo turco quindi c'era la visione delle IEPSE di quello che stava accadendo in Bakur come l'avanguardia della lotta e in effetti c'è stato in tutti questi anni e c'è tuttora un passaggio di militanti soprattutto molto giovani che da diversi paesi soprattutto quelli in cui è diviso il Kurdistan scavalcano i confini per andare a combattere in solidarietà con altre popolazioni con altre lotte, con altre esperienze in altre città ed è questo in realtà il tipo di movimento che questo muro vuole arrestare tra l'altro non è un caso che anche stati con questo mi avvio a concludere anche stati che spesso secondo delle ottiche che davvero io non riesco a comprendere soprattutto se ci si muove e si cerca di analizzare la realtà secondo un'ottica materialistica o comunque rivolta alla liberazione stati che vengono contrapposti gli uni agli altri in Medio Oriente come se taluni fossero come dire la concentrazione di tutto il male e altri invece fossero inspiegabilmente l'espressione di qualcosa di diverso l'Iran ha accettato per esempio che Erdogan costruisca un analogo muro lungo la confine del Rogelat cioè del Kurdistan orientale è un accordo che è stato salutato dal portavoce del ministro degli esteri iraniani come un accordo positivo dicendo che l'Iran farà sempre tutti i passi necessari per assicurare la sicurezza dei confini e quando si parla di sicurezza dei confini contro il terrorismo tra Iran, Iraq e Turchia si parla sempre di questo fantasma che si aggira attraverso questi confini che sono i kurdi ma sono in realtà la sinistra rivoluzionaria kurda e sono coloro che vogliono coinvolgere appunto anche gli arabi, i persiani, i turchi in una visione diversa del Medio Oriente quindi in qualche modo questi sono i foreign fighter che questo muro vuole arginare ma sono foreign, sono stranieri perché sono gli stati che considerano arrenderli stranieri con i loro confini che ricordiamolo sono confini stabiliti dall'Europa coloniale e tutto quello che è avvenuto negli ultimi anni a mio parere in Medio Oriente è una grande ondata di, come dire, senso della necessità di una seconda e più radicale decolonizzazione un'ondata che ha assunto spesso forme difficili da comprendere spesso forme anche che vorremmo non vedere ma nel suo insieme è comunque storicamente venuto al petti nel nodo che questi confini tracciati un secolo fa non sono sopportati dalle popolazioni di quei paesi che il Medio Oriente che è esistito finora e che ha anche animato tante lotte in particolare con le nazionaliste del Novecento che hanno avuto anche un ruolo positivo e un Medio Oriente che non è più storicamente nelle corde di quelle popolazioni questo naturalmente pone dei problemi perché sappiamo che anche il progetto israeliano e la sua politica estera sono sempre stati poi su questo Michele può eventualmente dire se è vero o no ma sono sempre stati orientati mi pare esplicitamente anche a perdere dagli anni Ottanta proprio su un'idea di riconfigurazione di questi confini su base diverse rispetto a quelli di Sykes-Picot quindi anche per questo che spesso diversi movimenti che si agitano in Medio Oriente vengono accusati di fare di fatto gli interessi vuoi dei sionisti vuoi degli Stati Uniti o di altre potenze ma la verità è che e qui davvero chiudo l'errore secondo me è credere che tutto ciò che avviene in Medio Oriente oggi sia dettato dalle logiche statuali quando invece il 95% di quello avviene dal 2011 in Medio Oriente è dettato da quello che le popolazioni che le persone che i poveri non vogliono più accettare e si configura poi in una serie di trambusti sociali e politici a cui gli Stati cercano di stare dietro e cercano di utilizzare per i loro fini ma appunto la costruzione di questo muro come quello nei confini dell'Iran è espressione del tentativo degli Stati di continuare a controllare una situazione soprattutto quando la critica all'eredità coloniale prende una piega di liberazione piuttosto che una piega reazionale come è in